Durante la mia esperienza al Museo Gemma di Mineralogia, mentre stavo frugando tra i vari campioni di minerali, mi è capitato tra le mani un frammento di aragonite. Questo campione è di colore verde azzurrino ed è uno dei più antichi al museo. Proviene dalla miniera di Schwarz nel Tirolo, in Austria. L'esemplare fu descritto e catalogato dal curatore austriaco Megerle, verso la fine del Settecento. È stato emozionante tenere in mano questo frammento che fu studiato 200 anni fa da questo curatore. Il minerale aragonite, che è carbonato di calcio, si presenta sotto forma di cristalli sottili e allungati e può essere in vari colori, come il bianco, il giallo, il verde e altri. Il nome deriva dal fatto che fu trovato per la prima volta in Spagna, nella provincia di Aragona.